Non hai avuto sue notizie? Nessuna, perché? Perché un momento fa è venuto Maurizio a chiedere di Bosco, il ragazzo che ha salvato Francisca. Bosco, perché hai sparito? Ieri se n'è andato dopo aver discusso con lei e oggi tutti, inclusa la signora, la cercano. Per questo te lo chiedevo. C'è qualcosa che mi sfugge perché andavano molto d'accordo ed era l'unico che riusciva a distrarla. A quanto pare qualcun altro ha bisogno di distrazione. Che c'è? Che c'è? Vieni qui. Vieni. Che c'è, Speranza? Ti eri stancata di dormire, vero? Sì, amore mio. Sì. C'è qualcuno che vuole attenzioni. Allora? Che c'è? Che dici? Che dici, Speranza? E Speranza chiede quando sarà il matrimonio. Vuole sapere quando si sposeranno i suoi genitori. Quest'estate ti va bene, bambina mia? A me, a suo padre non potrebbe andare meglio. Che c'è? Ehi. Che succede? Ehi. Non stringermi così forte. Sì, è davvero forte. Ehi.